19 e 30 contento eh? contento un bel cazzo ieri non sei venuto, oggi 4 ore di ritardo no, mi spiace, 4 ore e 15 minuti ah quanto, facciamo gli spiritosi adesso, ehi, facciamo gli spiritosi eh, sono ironico te la do io ironia cosa? oi, va che se te non la smetti, io ti do un calcione nel culo, ti butto fuori da quella porta lì carino, e ti licenzio ma va? si caro, ti licenzio, e non ti do nemmeno la liquidazione dopo, prova per me causa, se te sei buon allora, mia bella faccia di culo allegro del mio bel datorino di lavoro parlo per lei, per tutta la baranca, per i murattini ascolti questo bel messaggio in codice libero, via fuori, sei licenziato, via, andare no caro, no, sono io che mi licenzio carino e da oggi il mio ruolo è cambiato da venditore sono diventato acquirente ho appena acquistato un bel carro da 30 teste cara mia bella faccia di culo allegro ti saluto scusi, che tenuta di strada ha questa macchina? una merda, si ribalti in parcheggio ciao 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 Grazie per la visione!